E' con noi il vincitore del 35esimo trofeo Zosso Sudai, Enrico Battaglin. Enrico, un commento su questa 35esima edizione? Ma è una bella gara, ho vinto stagione, comunque non pensavo di riuscire a fare così bene da subito e invece comunque la condizione è stata buona e sono riuscito a dire la mia in questa bella gara. Dove hai vinto questo 35esimo trofeo? Qual è stata la chiave di svolta? La chiave di svolta è stata comunque nel finale in cui l'Adria è riuscito a riprendere l'Usevena che era da solo e poi siamo arrivati in volata e sono partito un po' a lungo però comunque sono riuscito a tenere bene fino a qui anche se erano veramente agli scocci di delle forze però mi è andata al bene. Forse un commento, un ultimo commento sul percorso, come è stata la salita la prima volta del 202 fino a Padriciano? Ma è un percorso molto duro perché comunque l'Adria, come ho detto prima, ha fatto un ritmo veramente forte e ha fatto la differenza. È un po' cash, senza le due salite qua, arrivare al traguardo è stata un attimo più lunga però comunque è una bella gara, molto dura. Caos, grazie.